Ragazzi prima di iniziare il video vi ricordo che questa sera alle 19.00 sarò in live su Twitch Trovate il link qui sotto nella descrizione Naturalmente se siete nuovi vi invito a scegliere il follow e se potete fate la sub o abbonamento che è la stessa cosa col Prime Detto questo Buona visione Ciao a tutti Gamer, io sono Pera, benvenuti in questo nuovissimo video Dunque in questo nuovissimo video qua è il primo video dove reinizio la mia carriera su YouTube Perché si, già su un vecchio canale facevo video Soltanto che poi ho smesso, ho commutato con Twitch come sapete eccetera Comunque da questo video qua in poi ci saranno gameplay Tranne questo qua che è una speed construction di Minecraft presa dal vecchio canale Non so proprio i giorni precisi di quando usciranno Quindi vi ricordo di iscrivervi attivando la campanellina delle notifiche Per sapere quando usciranno i miei video E intanto vi ricordo che questa sera sarò in live su Twitch Dalle 17 E niente, se volete andare a seguire mi trovate il link sotto nella descrizione Detto niente, detto questo Via con il video Ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.